Buonasera, buonasera a voi. Allora oggi pomeriggio tra tutto il materiale che di solito vado a visionare ho avuto modo di vedere un video di un intervento da parte di un attivista congolese Mary-Jean Balagisi, un attivista che gira un po' per tutta Europa e non solo per i diritti continuamente calpestati degli africani e in particolare del suo paese il Congo, un paese che ha subito un terribile genocidio anni fa con 6 milioni di morti. Noi conosciamo e parliamo solo e sempre del genocidio degli ebrei ma in giro per il mondo ce ne sono altre tanti che hanno fatto altre tanti morti dei quali nessuno parla. In questa analisi lei intervenuta ad un congresso internazionale, lei fa una riflessione amara partendo dalla carta dei diritti umani che parlano di fratellanza, che parlano di unione, che parlano di rispetto e al termine di questo elenco che lei fa dice noi siamo di fronte a questi, a tutto questo estere fatti perché non riguarda certamente la realtà e in particolare la realtà del nostro paese e non solo del nostro paese ma un po' tutto il continente africano. Proseguendo poi nel suo discorso lei sottolinea il fatto che anche in Italia ci sono dei migranti di serie A e dei migranti di serie addirittura Z. Adesso vi voglio far ascoltare un piccolo passaggio, poi questo intervento integrale, ripeto, di Mary Jen Balagisi lo potete trovare ovunque su internet, mettete questo nome Mary, con lei finale, Marie Jen Balagisi è congolese, un attivista congolese. Adesso vi faccio ascoltare giusto un passaggio insomma sul quale poi facciamo delle riflessioni. Di serie A e anche di serie Z fino a Z. E noi soprattutto che veniamo dal paese africano con colore della pele, siamo quelli che direttamente se arriva un barcone tutto il mondo, tutta l'Europa dice che sono arrivati gli invasori, ma se arrivano gli ucraini sono un'altra categoria dei migranti. Io non sto raccontando bugie, se qualcuno domani va in una questura vedrà che c'è uno sportello speciale per i rifugiati ucraini e poi ci sono tutti altri che devono stare fuori sia l'estate durante l'icado che sia anziano o neonato, tutta la giornata per aspettare un appuntamento. Se hai avuto l'appuntamento alle 7 vuol dire l'appuntamento tu passi alle 17 o alle 16, ma un ucraino giovane, forte, che arriva, tutti devono stare, lasciare posto perché questo giovane è un immigrato di serie A. E allora parliamo, non facciamo finta, non analisiamo le cose con superficialità e con ipocrisia. Credo che sia stata molto chiaro. Tra l'altro, non so voi, ma io non lo sapevo che ci fossero degli sportelli così dedicati proprio ai migranti ucraini che quindi, come ha raccontato Mary Jane Balagisi, non fanno neanche la fila, mentre loro sono costretti a fare lunghe file, magari anche con i bambini per ore e ore, e quando hanno un appuntamento, prima di però essere ricevuti, passano ore e ore, talvolta anche sotto il sole, mentre, come dice lei, magari si presentano anche ragazzotti in gran forma ucraini che immediatamente hanno lo sportello preferenziale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire quello che abbiamo sempre detto, che qui non è un problema di umanità, che gli americani sono umani, che gli americani portano la democrazia, che gli americani portano le libertà. Non gliene frega nulla a Biden di tutto questo. È semplicemente una lotta egemonica da parte degli Stati Uniti ed è una lotta, come in questo intervento, se ve lo andate ad ascoltare, dice la Balagisi, semplicemente economico. È quello di sfruttare, di continuare a sfruttare l'Africa. E lei, così, mira molto, tiene il dito puntato sulla Francia in particolare, e lo sappiamo, i colonizzatori, per eccellenza, dei paesi africani. Macron dovrebbe vergognarsi di tutto questo, di quello che i francesi hanno fatto in passato e continuano a fare. E in Congo si continua a morire, come dice la Balagisi, siamo arrivati a qualcosa come 12 milioni di morti. Ma nessuno ne parla, mentre si continuano a riempire libri di storie e quant'altro, è un obbligo parlarne agli studenti del genocidio subito dagli ebrei e così via. Per carità, tutto vero, ma il fatto che poi, invece, si nasconda e si stia in silenzio su altri genocidi, vuol dire che l'Occidente ha le mani sporche di sangue. Ed è questa la realtà alla quale dobbiamo guardare. E guardate, scusate il gioco di parole, che questa storia non è che potrà andare avanti in eterno. Perché piano piano, giustamente, l'Africa si ribellerà. Adesso, come dice la Balagisi, si ribella arrivando, cercando di arrivare in posti dove perlomeno non muoiono di fame, come muoiono di fame nel loro paese. Questa è la cosa incredibile, no? E allora, quando noi parliamo dell'Ucraina, noi dobbiamo anche avere presente che gli ucraini, e anche questo è un qualcosa che sottolinea nel suo intervento alla Balagisi, parla di marionette. Le marionette sarebbero i Zelensky, no? Che sono stati messi lì dagli occidentali per fare i loro sporchi interessi. Ecco, vedete, quando si vuole attaccare, e Biden lo ha definito un assassino macellaio, Putin, quando si vuole attaccare il nemico e si hanno le mani sporche, appunto, di sangue, bisognerebbe soltanto vergognarsi di tutto questo. Ed è una vergogna altrettanto grande quando nei vari interventi televisivi, sui giornali, si cerca di attaccare, no? Questi popoli che vivono in condizioni terribili, come vivono i palestinesi. Poi, lo abbiamo sempre detto, abbiamo sempre condannato la violenza fine a se stessa, come talvolta dobbiamo assistere a tutto questo. Però, ripeto, gli occidentali devono soltanto stare zitti e muti di fronte a questa situazione, perché in Africa ci sono delle condizioni incredibili, dove tutti sfruttano queste terre semplicemente per un fatto di materie prime, per un fatto economico, mentre la carta dell'ONU è lontana anni luce da quello che dovrebbe essere, appunto, fratellanza, solidarietà, pace per tutti i popoli della Terra. Ascoltatela molto bene, Marie-Jean Balagisi. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.